E' in atto un serrato dibattito sulla rimodulazione delle tariffe per il consumo dell'acqua in Puglia. Il capogruppo del PD, De Caro, propone una riduzione del 7%, ma i vartici del partito e lo stesso governatore Vendola sono in diversa opinione. La nota del giorno di Michele Cristallo. La legge regionale numero 9 del 30 maggio 2011 ha abolito l'autorità d'ambito territoriale ottimale per fare spazio alla costituzione dell'autorità idrica pugliese. Quindi in linea con l'istituzione dell'ente idrico per la gestione in Puglia della risorsa acqua. E su questa seconda vita dell'acquedotto pugliese è in atto un serrato dibattito nel Consiglio regionale in relazione alla rimodulazione delle tariffe per il consumo dell'acqua. Il capogruppo del PD, Antonio De Caro, propone al Consiglio regionale che dal computo delle tariffe venga esclusa la quota del 7% relativa alla remunerazione del capitale investito. Quindi in sostanza chiede una riduzione del 7% sulle tariffe di consumo. Questo anche in linea con lo spirito del recente referendum che ha consacrato l'acqua come bene comune. Non solo, ma la proposta va anche al di là per prendere in considerazione fasce di consumo differenziato in base al reddito e alla composizione numerica delle famiglie. Il discorso in tal senso era già stato avviato dall'autorità che è stata abolita per fare spazio all'autorità idrica, ma è rimasto in sospeso appunto per la sua abolizione. La proposta quindi adesso passa al Consiglio regionale. La proposta di De Caro ha suscitato interesse, ma ha innescato anche qualche polemica nella stessa maggioranza. Il governatore Vendola e qualche assessore, gli stessi vertici della Quedotto Pugliese, la pensano diversamente tirando in ballo i costi di gestione, in relazione ai quali però De Caro replica, opponendo i risultati estremamente positivi di bilancio. Insomma è un problema che alimenterà il dibattito nelle prossime settimane ed è una questione, si dice giustamente, di giustizia sociale al di sopra e al di là dei discorsi di pura finanza o di ragioneria. Una lezione speciale oggi per gli alunni delle scuole del quartiere Madonnella, che hanno inaugurato la Tre Giorni del Cantiere Creativo, iniziativa ludico-didattica di Acquedotto Pugliese, che si intreccia con il vero e proprio cantiere dove sono in corso lavori per il potenziamento della rete idrica. Largo Curi si è trasformato in un laboratorio artistico per studenti con elementi tipici dell'edilizia, reinventati in forma di panchine, tavolini, sedie sdraio e illuminazioni. Testimonial d'eccezione il 19 ottobre, Pietro Menea. 360 agenti di polizia penitenziaria a fronte di 550 detenuti. Sono le condizioni impossibili del carcere di Bari, dove stamattina c'è stato l'ennesimo sopralluogo del vice segretario generale del sindacato OTSAP, Domenico Mastrulli. Sentiamo cosa è emerso in questa intervista di Cristina Ferrigni. L'ennesimo sopralluogo dell'OSAP nell'istituto penitenziario di Bari, con particolare attenzione alla sezione femminile. Quali sono le condizioni? La situazione nel reparto femminile ha dimenticato la civiltà. In Africa gli esseri umani vengono trattati meglio, ma non per colpa di un'amministrazione periferica, ma per una condizione logistica da terzo mondo. Parliamo di donne, di madre e di famiglia che vengono arrestate e invece di dover dar conto dell'espiazione della pena vanno ad espiare una tripla pena, quella sociale, quella fisica e quella detentiva. Domani incontrerà il sindaco Emiliano, cosa richiederà? C'è l'ok del Presidente Ionta sulla costruzione del nuovo istituto di 450 posti, ma mi auguro, auspico, che la costruzione di questo nuovo penitenziario sia parallela ad una costruzione di una cittadella della giustizia che comprenda carcere maschile, reparto femminile, carcere minorile e perché no il gruppo Cinoferi rientri qui in ambito regionale e anche gli stessi uffici del provveditorato. Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di nazionalità romena di 14 anni è stato denunciato dagli agenti della polizia in quanto sorpreso insieme ad un cotaneo mentre lanciava sassi sulle auto in transito e via Tatarella nella zona di Poggio Franco a Bari. Dovrà rispondere del reato di danneggiamento aggravato. Il mercato settimanale di Capurso non piace proprio agli ambulanti che denunciano una situazione di disagio. Cristina Ferlini li ha incontrati per noi. Cosa non funziona in questo mercato? L'hanno decentrato moltissimo. Prima era solo uno stradone, adesso sono cinque strade, quindi si è disperso il cliente. Quindi poi siamo un po' messi malissimo, a parte che il cliente non sta scendendo più. Gli anziani che prima eravamo accendo il paese scendevano, qui ora scendono solo i giovani e nient'altro. Questo mercato o viene o non viene è la stessissima cosa, perché lì la giornata si prendeva, ma qui non c'è guadagno, si rimette il resto. Eppure rientra nella categoria dei cosiddetti mercati di prima classe, quello settimanale di Capurso. Ai circa 150 ambulanti piazzare le bancarelle ogni lunedì costa 350 euro l'anno, più 160 euro per la tassa dell'immondizia. Ma la spesa, secondo quanto ci hanno detto, non vale l'impresa. Il mercato situato alla periferia del paese, in direzione Contrada Marrone, non porta guadagno. È poco frequentato perché lontano dal centro abitato, i servizi igienici sono fuori uso e l'asfalto è usurato. Non solo. Da novembre del 2010, da quando cioè il mercato è stato trasferito in Contrada Marrone, dalla zona antica del paese, era stato istituito dall'amministrazione comunale un servizio di bus navetta gratuito per agevolare i residenti a raggiungere il mercato. Dopo due mesi di bus navetta neanche l'ombra. Intanto gli ambulanti fanno appello al comune. Di stare in un luogo più adeguato, perché in questo momento siamo nella zona 167. Basta un po' di vento e non possiamo aprire. Basta, se c'è il sole, apriamo, ma la gente logicamente, con i gradi che abbiamo avuto in questo ultimo periodo, 40 gradi, 45 gradi, nessuno viene qui all'aperto dove il sole comunque piomba proprio direttamente. Poi oltretutto paghiamo qua una classe A come zona mercatale, ma classe A qua non c'è. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, eventi saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord con un'intensità di 17 km orari. Temperature comprese tra i 10 e i 15 gradi. In chiusura vi ricordo i nostri indirizzi internet, telebari.it e radiobari.net. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.